Ci batteremo con ogni mezzo ed in ogni modo perché la scuola di Caronia Marina non venga chiusa. Questo è l'oggetto di una petizione che sarà inviata al sindaco Antonino Donofrio perché eviti la chiusura del plesso. L'amministrazione pare orientata a chiuderlo in modo da trasferire tutti gli studenti nell'immobile che ospiterà il polo scolastico a Caronia. I genitori però non sono d'accordo per problemi logistici e anche economici perché il costo del trasporto scolastico in parte sarà a loro carico. Noi in questi anni ci siamo adattati all'amministrazione, prima per la mensa, poi per il servizio pullman, con enorme insomma. Io faccio un po' da pulmino perché la mattina prendo 4 o 5 bambini e dico anche a rischio mio. Però questa volta non ci vogliamo adattare perché noi abbiamo un istituto e abbiamo intenzione di portarlo avanti fin quando è possibile. Lo spirito della petizione è proprio questo? Certo, c'è questo istituto e quindi noi lo vogliamo, non vogliamo che si chiuda assolutamente e questa volta siamo pronti a fare tutto. Perché oltre a un disagio economico ci sarà un disagio proprio logistico nostro di mamme, chi non ha la patente, non ha la macchina perché magari il marito lavora, chi ha più bambini, magari anche neonati, che quindi lasciarlo per andare magari a prendere il bambino che si sente poco bene alla scuola. Non si parla di 2 chilometri o 10 metri, si parla di 5-6 chilometri lontano. Quindi prendi, sali, durante magari anche dicembre che comunque è un periodo invernale. Dico, non è una cosa semplice per noi soprattutto mamme, comunque per tutti insomma. Sarebbe la soluzione più facile, sarebbe mantenere questa scuola? Certo, perché comunque un passaggio lo si riesce a trovare, magari il nonno o la nonna che abitano vicini, comunque noi stessi un secondo lo riesci a accomodare, mentre così prendere e salire insomma non è una cosa semplice. Grazie a tutti.